Nel nome del Padre e del Piedro e del Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto la tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò, ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore Noi tigori, noi tigori, fighiamo Noi tigori, fighiamo Padre nostro che sei nei cieli Padre, dacci il nostro pane quotidiano Padre Tu pane vivo Tu regno Il tuo regno Tu un etrino Fiammolunta su Per sempre in te E tu in me Come un cielo così terra Come un cielo così terra Come un cielo così terra Fiammolunta su Fiammolunta su Sincut in cielo E in terra Sincut in terra Dal libro di cielo Volume 4 Capitolo 155 30 novembre 1902 Trovandomi con timori, dubbi e agitazioni Che tutto fosse opera del demonio Venendo il mio adorabile Gesù Mi ha detto Figlia mia, io sono sole che riempio di luce il mondo Ed andando all'anima si riproduce in detta anima un altro sole In modo che questi soli A via di raggi di luce Si saettano A vicenda Continuamente Ora in mezzo a questi due soli Si riproducono delle nubi Quali sono le mortificazioni Le umiliazioni Le contrarietà Le sofferenze Ed altro Se questi sono veramente soli Hanno tanta forza Con loro saettarsi continuamente Di trionfare su queste nubi E di convertirle in luce Se poi sono soli apparenti E falsi Queste nubi che si riproducono in mezzo Hanno forza di convertire questi soli In tembre Questo è il segno più certo Per conoscere se sono io o il demonio E dopo che una persona ha ricevuto questo segno Può ammettere la vita Per confessare la verità Che è luce E non Tenebre Sono andata Luminandole la mia mente Se si trovano in me questi segni E mi veco tanto difettosa Che non ho parola per manifestare la mia cattiveria Ma però non mi sconfido Anzi spero che la misericordia del Signore Voglio avere compassione di questa povera creatura 3 dicembre 1902 Capitolo 156 Questa mattina trovandomi nel solito mio stato E continuando i miei timori Nel venire Il benedetto Gesù Gli ho detto Vita della mia vita Donde viene che non mi fate ubbidire Agli ordini dei superiori? E lui E tu figlia mia Non vedi da dove viene il contrasto? Che il volere umano Non si unisce col divino E non si danno Il bacio Insieme In modo Da formare Un solo volere E quando c'è contrasto Tra questi due voleri Essendo superiore Il volere divino Il volere umano Ci deve perdere per forza E poi che altro vogliono? Se io ti ho detto Che se vogliono Ti faccio cadere In questo stato Se non vogliono Ti faccio ubbidire Riguardo all'obbedienza Che io ti devo far cadere E io ti devo far riavere Senza che loro vengano Lasciando la cosa Indipendente da loro E tutta a mia disposizione Resta a me Se ti voglio tenere Un minuto o mezz'ora In questo stato Se ti devo far soffrire o no Questo resta tutto a cura mia E volendo loro Diversamente Sarebbe un volermi Dettare leggi Del modo Del come e del quando Io Debo fare le cose Questo sarebbe un volersi Ficcare troppo Nei miei giudizi E farmi da maestro Mentre la creatura È tenuta ad adorare E non ad investigare Sono rimasta Perché non ho saputo Che rispondere Vedendo che non rispondevo A soggiunto Questo non volersi persuadere Mi dispiace assai Tu però Ne contrasti In mortificazione Non avere lo sguardo In quelli Ma fissalo in me Che fui il bersaglio Delle contraddizioni E soffrendoli Tu verrai renderti Più simile a me Così la tua natura Non potrà spostarsi Ma ti resterai Calma e quieta Voglio che faccia Da parte tua Per quanto puoi Ad ubbidirli Ed il resto Lascialo a cura mia Senza turbarti Sono molto istruttivi Questi due paragrafetti Riguardanti L'esperienza personale Di Luisa Ma anche Come sempre Contenenti Ammaestramenti Generalizzabili Il primo Io devo confessare Che Anche per me Quando lo lessi Per la prima volta È stato Una Novità Una sorpresa Cioè nel senso Che è chiaro Che penetrandolo bene Questo criterio Di discernimento Era già noto In parte Sotto certi aspetti Ecco Nella letteratura Ascetica E mistica Però Gesù Specifica Bene Alcuni aspetti Il problema È discernere Se un qualcosa Viene da Dio O dal demonio In particolare Qui certamente Luisa Come tutte le anime A contatto Con il sopranaturale Cioè la croce Ti doveva discernere L'origine Delle sue Manifestazioni Noi dobbiamo Tenere presente Una cosa Che quando Su queste cose Si indaga Dall'esterno La persona Che ha ricevuto Dalla chiesa O dal signore L'incarico Di fare Discernimento Deve tenere aperte Tre possibilità Tre possibilità Che venga da Dio Che venga dal diavolo O anche però Che sia In qualche modo Frutto Della fantasia O di qualche Insomma Turbamento psico Della persona O addirittura C'è anche una quarta Ipotesi Insomma No Remota Ma Che si tratti Come dire Di una Di una recita Insomma Di un Di un inganno Ordito a tavolino Non si sa bene Poi per quale cose No Purtroppo Nella storia Della chiesa Come riportano Insomma Alcuni santi C'è stato dedotto E di più Comprese Badessi di monasteri Con delle levitazioni Questo lo riporta Santa Alfonso Che poi Si è scoperto Essere indemoniati Quindi I piedi di piombo Che la santa chiesa Usa sempre Sono più che giustificati Purtroppo Ecco Perché Non è che vuole fare Il Il miscredente O l'incredulo O il razionalista Però Essendoci dei Purtroppo Pericoli Concreti È necessario Procedere con prudenza È chiaro però Che Dalla parte del diretto Interessato Noi possiamo immaginarci Questo stato No Non avendolo vissuto È chiaro che Le alternative Si riducono a due Perché se la persona Sa che non sta facendo La recita Che non sta ingannando E sa Che Non è malata di mente O cose di questo genere È chiaro che per lei Vedere certe cose Si riduce a una Duplice alternativa O sono cose Che vengono dal cielo O sono cose Che vengono dal demonio Perché comunque Dentro la coscienza Di quella persona È evidentissimo Insomma Che una prima Sfrondatura C'è Quindi questa Non è opera Che viene da me Quindi ce n'è Uno in meno Su tre Ne sono rimasti due Ecco Diciamo che In linea di massima In linea di massima Per quanto riguarda L'esperienza Delle persone Questo vale anche Come criterio Per noi No Generale Cioè È brutto segno Quando la persona Come dire È convinta Che viene dal cielo A priori Senza aver fatto Un discernimento Non è buon segno È buon segno Invece Quando la persona Come dire Mossa da umiltà Dice Ma te pare Che il nostro Signore Viene da me Ma A me può Sottopormi al discernimento Di qualcuno Per raccapezzarmi qualcosa Insomma Perché a me Sembra molto strano Che Dio venga da me Di per sé Questo comportamento È molto Più promettente Del primo Quindi quando una persona È già convintissima Che gli parla Lo Spirito Santo O la Madonna O San Michele O qualche santo Chi per lui A priori Già questo è un pessimo segno Non è escluso Che lo sia Ma di per sé È un pessimo segno Perché non è certamente Proprio dell'umiltà È chiaro che Quando si tratta Invece però Di cose che vengono Dal cielo Il demonio pompa Nel senso Che cerca di persuadere L'anima Che si tratta Di cose Che vengono Dall'inferno Ecco quindi In questo Come dire Atteggiamento Che di per sé stesso Non è cattivo Quindi Anzi È un buon segno Quindi dubitare E andarci con i piedi Di piombo Non pensare subito A me pare La Madonna O chi per lui È chiaro Che se il diavolo Ci pompa Poi si può Peccare per difetto Quindi Cioè Arrivare fino al punto Esagerando Di escludere Sono sicuro Che una cosa Che viene dal diavolo Non ci sta niente da fare Non ci parlo manco Insomma Con il confessore E anche questo Sarebbe un atteggiamento Superbo Perché è comunque Un atteggiamento Superbo Il decidere Su queste cose Da Da soli Perché Quello che si Applica Nella legge civile Che io Insomma Conosco bene Nemo iudex In causa propria Si diceva Già da tempi Del diritto romano Nessuno può essere giudice Sulle cose proprie Si applica Cento volte di più Su queste cose qui Perché anche se uno fosse Un santo Ecco Il mio caro Vescovo Emerito Penso di poterlo dire Insomma Monsignor Petrocchi Proprio oggi Quando cade questa meditazione Tra poco Diventerà cardinale Di Santa Romana Chiesa Con mia somma gioia A noi diceva Sempre una cosa A noi giovani preti Cioè vedete I nostri occhi Anche i nostri occhi fisici Non possono guardarci Non c'è Se noi non c'avessimo uno specchio Non sapremmo neanche Come è fatta la nostra faccia Perché i nostri occhi Possono guardare Tutti meno che noi stessi Ecco Tenete sempre presente Che così è nella vita interiore D'accordo Voi siete preti No? Quindi dovete aiutare le persone Dovete confessare Dovete dare consenso Ma attenzione Potete farlo su tutti Meno che su voi Perché voi dovete chiedere A vostra volta aiuto E una spia di questo È che il sacramento Della confessione È stato dal Signore Stabilito in modo tale Che anche chi c'ha Cioè io per esempio Ho la messa da solo La posso celebrare D'accordo? Anzi è una cosa Molto molto bella E molto raccolta Molto intima Ma la confessione da solo Io non la posso celebrare Non la posso celebrare Non la posso confessare da solo Faccio un segno Io potrei fare tranquillamente Mi metto davanti al tabernacle Faccio il segno della croce Dico tutti quanti i miei peccati Al Santissimo Sacramento Poi mi impongo le mani Anziché dico Io ti assolvo Io mi assolvo dai miei peccati Nel nome del padre Del figlio dello spirito santo Che problema c'è In teoria D'accordo? Che che è? Non so più prete Cioè sono prete comunque Non lo potrei fare Perché la struttura Del sacramento della confessione È stata blindata da Gesù In un altro modo E questo perché? Perché pure il santo padre Francesco Il papo emerito benedetto E così quelli che sono morti C'avevano il confessore Il santo padre Si confessa D'accordo? E si confesserà Certamente con frequenza Come tutti i santi uomini D'accordo? Che peccati avrà fatto? Tu ti preoccupare Avesse fatto soltanto Delle semplici imperfezioni Non fa niente Ma che per ricevere La grazia sacramentale Deve ricorrere ad un altro Quindi questo è il primo Punto fondamentale Quindi questa titubata E questo quindi che significa? Perché io mi sono Mi sono come dire indugiato? Perché noi Anche per raccapezzarci Di quello che accade Dentro la nostra anima Anche nell'ordinario Certo noi possiamo Ma è sempre bene Procedere con cautela È sempre bene Essere tranquilli Io ho visto insomma Anche persone Anche nel mondo Signore mi sto muovendo Mi sto muovendo Andiamo con cautela Insomma ci sto provando Tu aiutami Preservami Non mi far fare passi falsi Quindi quella sana umiltà Che però non raggiunge Lo scoraggiamento Oppure la depressione Anche a livello personale Non faccio niente di buono Sono sempre lo stesso Cose di questo genere Quindi questo in generale Poi Gesù Da questo criterio Di discernimento Ripeto Il nuovo solo in parte Il criterio è questo qui Dice bene Tu hai avuto Un'esperienza soprannaturale Se viene dal cielo Questo è un sole Che ti splende Allora che cosa succederà? Guarda come ti comporti Dinanzi a queste situazioni Precise Mortificazioni Umiliazioni Contrarietà Sofferenze Ed altro Cioè tutte queste Qual è il minimo Comun denominatore Di queste cose? Qual è il minimo Comun denominatore? È che tu Devi soffrire Capito? Devi soffrire E in alcune circostanze Devi umiliare Allora Se l'esperienza Cioè Se tu Attenzione Attenzione a quello Che Gesù dice Questo è il segno Più certo Che conosce Sono io il demonio E se hai ricevuto Questo segno Può mettere la vita Per confessare la verità Che è luce Non tenebre Cioè Perché? Perché il demonio Se tu lo umili Scappa Il demonio Non si lascia umiliare Non ubbidisce Il demonio La può simulare L'umiltà Quindi atteggiarsi Da falso umile Ma se viene umiliato Sbotta Non c'è Stai niente da fare Allora Il calo Del tasso Della superbia Possiamo generalizzare È un indice Di buon cammino Interiore Il non calo Del tasso Della superbia È indice Del fatto Che dobbiamo Lavorare meglio E di più Se uno Riceve una mortificazione Allora Lo raccontavo tantissime volte Lo raccontavo tantissime volte C'era Il caso di San Filippo Neri Probabilmente Che ascolta queste cose Insomma Papa lo chiamò A Roma Girava una Pseudo mistica Pseudo si dice Col senno di polma Che sembrava tutta mistica Così così Eccola Papa Vai a dare un'occhiata Per favore Ci vai Ancontri un attimo Parlaci due minuti Poi dimmi Che cosa ne pensi Perché Ne parlano tutti Tanto bene Insomma Forse è una mistica È una santa Lui è andato Quel giorno C'era un po' di fango In giro per Roma Non mi ricordo Se aveva piovuto Cosa di questo genere E quindi è arrivato A casa di questa C'era le scarpe sporche Gli ha chiesto Guardi Abbia pazienza C'ho queste scarpe così E' sicuramente Insomma Impresentabile Che gentilmente Potrebbe Insomma Prendere qualcosa Oppure dare le stesse Insomma Una spolveratina Insomma Una pulita E questo è montato Tutte le furie Ha rifiutato San Filippo E' rimasto A fare una visita Di cortesia Ha parlato Del più del meno Dopodiché Andava dal Papa Ha detto Lì non c'è niente Di sopranaturale Per la reazione Che aveva avuto A questa Questa cosa Perché Questo Il criterio Più generale L'abbiamo Ascoltato Per chi Va alla Santa Messa Tutti i giorni In una Messa di ieri Si riconosce L'albero Dace frutti Non c'è un albero Buono Che produca Frutti cattivi Non c'è un albero Cattivo Che produca Frutti buoni Quindi Dai loro frutti Li potrete Riconoscere E quindi E questo lo dice Anche San Giovanni Della Croce Santa Teresa Oltre alle situazioni Diciamo così Che si devono discernere Nell'atto Per vedere Solamente E' vero E' vero E' vero E' vero Dice Qual è la cosa fondamentale Che quando una cosa Viene da Dio Produce nella tua anima Un Un aumento Delle virtù E una diminuzione Dei peccati In caso contrario Perché se viene da Dio Deve per forza Produrre il bene Non può produrre il male Se viene dal diavolo Non può produrre il bene Se non Apparente Quindi l'euforia Del momento Poi ci sono continuati Gli altri segni La pace La gestione Non è il caso Insomma Di fare una lezione Quindi in generale Questo vale per tutti noi Stai facendo Un buon cammino Bisogna che devi andare a fare Guarda la tua vita Guarda i frutti Che escono fuori Stai cambiando Per il meglio Stai comprendendo Tante cose Stai migliorando In alcuni difetti Stai crescendo In alcune virtù Bene Stai tranquillo E vedi che siamo fermi Oppure che si va indietro C'è qualcosa Che non funziona C'è qualcosa Che non funziona Bisogna fare attenzione Alla categoria Dei praticanti Non credenti Ma anche A quella Dei devoti atei Come ho detto In un'omeria Che ancora non sta online Che ci andrà Prossimamente Stanno i devoti atei C'è quelli che fanno Pregano Pregano Vanno messi all'ottigione Come all'ottigione Eccetera Eccetera Ma Da un punto di vista Profondo Di vita di fede Solida Nelle virtù Cioè Fanno centomila preghiere vocali Diceva San Luigi Muffort E poi Bonia sta dieci minuti In adorazione Del Santissimo Sacramento Perché se non c'hanno Qualche cosa Che gli riempie Insomma È il tempo E le labbra Che parlano Parlano Non sono capaci Di entrare in un rapporto Personale con Gesù È vita di preghiera Questa Punto interrogativo Evidentemente no Figuriamoci Nel mondo Della divina volontà Dove tutto Diciamo così È Per certi aspetti È spontaneo Cioè Gesù disse a lui Se ti insegni Un nuovo modo Di pregare Un nuovo modo di pregare Era che tutto diventa preghiera Questo è È la realizzazione Del pregare Incessantemente Di San Paolo Che si realizza In quella familiarità Continua In quella connessione Interrotta Continua Che si hanno Con Gesù Con Gesù Con Maria Che diventano Veramente Una presenza Costante Certamente Non visibile Ma al nostro cuore Alla nostra anima A cui chiediamo Al volo aiuto A cui ci rivolgiamo In qualunque momento A cui gli offriamo La nostra cosa A cui gli diamo Ispirazioni In cui ci fondiamo In continuo Cioè È una cosa continua E questo Produce Se uno fa Veramente questo E lo fa bene Quindi dentro L'orizzonte di fede Ricordiamo sempre Che per entrare Nella divina volontà Prima bisogna Farla Quindi bisogna Comunque Lavorare Impegnarsi Eccetera Eccetera Non è possibile Che ci siano frutti cattivi E allora può stare tranquillo Perché anche se venisse Un angelo dal cielo Degli Guarda che ti stai sbagliando Diceva I frutti che si vedono Insomma E se uno Ovviamente In spirito Di sincera umiltà Si confronta Quindi C'ha un confessore C'ha un sano Direttore spirituale Sarà lui stesso Può dire Guarda No Stai camminando bene Pure guarda Ecco Non si vedono ancora Grandi cose Quindi non ti scoraggiare Però ecco Rimbocchiamoci le mani Lavoriamo ancora un pochino Perché Diceva Sant'Ignazio di Roiola Che era un grande Maestro Nell'incertimento degli spiriti Che fino a quando Non si vedono Seri progressi Nel difetto Predominante Non si può fare Affidabilità Sulla serietà Di quel cammino Che sta facendo Quell'anno Il difetto Predominante Deve essere Tanto è vero Che come sappiamo Gli istituti Di vita consacrata Almeno Insomma Secondo l'impostazione Classica Io adesso Non sono pratico Voglio ben sperare Che le famiglie religiose Abbiano Conservato Diciamo così Questa Questa sana Metodologia Ma c'era proprio Un'operazione Mirata Cioè Voluta Quindi con Come dire A volte con umiliazioni Pensate ad hoc Proprio per Aiutare Il processo Di distruzione Di quello Che San Paolo Chiama Uomo Vecchio E che noi Se volessimo Parafrasare Il linguaggio Di Lisa Potremmo chiamare La volontà umana Propria Dalla stessa identica cosa D'accordo? O l'egoismo O quello che noi O quello che uno Preferisce Ecco Invece Nel secondo paragrafetto Qui il problema È un altro È un pochino Rivolto Questo a noi Preti E anche A tutte e quante Le persone Costituite in cura D'anime Allora Facciamo un esempio Più noto Faccio due esempi Adesso Luisa Ancora non è canonizzata Quindi Non facciamo Troppi esempi Faccio due esempi Di due sante canonizzate Per far capire La fattispecie Santa Veronica Giuliani A un certo punto Gesù un giorno Le appare E gli dice Senti Io voglio che tu Vai in giro Per il monastero Scalza Senza scarpe Senza sandali Senza niente A piedi nudi Chiaramente Lei va dalla madre superiore Non era ancora La malbassa E gli dice Senti Guarda che il nostro signore Vuole che io Vallo scalza In tutto il monastero La madre superiore Gli dice Tu sei matta Mi accordo Perché ti pare Che vuoi fare una cosa Che attira l'attenzione Di tutta la comunità Non se ne parla nemmeno E lei chiaramente È obbedito Ecco Solo che il nostro signore Questo è l'esempio Che sta facendo Luisa Siccome questa cosa La voleva Da 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 Santa Veronica Per farlo capire Al superiore Per far capire Al superiore Dice Sì Tu c'hai un potere Di obbedienza Però stai attento Che quando c'è dinanzi Un'anima Che è sotto L'oggetto diretto Delle mie cure La tua obbedienza Deve essere La tua autorità Deve essere esercitata Nel rispetto Di quello che io voglio E tu a tua volta Devi cercare Di capire Quello che io voglio E di esercitare L'obbedienza In maniera conforme A quello che voglio Ma fa come te pare Perché altrimenti Qui sarebbe Che tu ti fai più grande Di me Allora Per farglielo capire Ogni volta Che si metteva Le scarpe O qualcosa Gli si confiavano Talmente tanto I piedi A Santa Veronica Che è giugnale Che non si potrebbe Tagli oggi Tagli domani Tagli dopodomani Un bel giorno La superiore ha detto Ah vabbè Vattene in giro scalza E da un momento Ti viene in senso A confiare di più Questa è una E un'altra Glamurosa Avviene con Santa Margherita Maria Alacoc In diverse circostanze Insomma In cui La mistica Del Sacro Cuore È quasi finito Il mese Del Sacro Cuore E Con l'ora santa Aveva chiesto A questa donna Di fare l'ora santa A giovedì sera Dalle 23 alle 24 Prostata In cappella Perché così Bisognerebbe fare L'ora santa Quella è proprio L'ora voluta da Gesù E bisognerebbe stare Prostrati davanti Al Santissimo Sagramento A pregare A riparare Questo Questo Uno legge Abbiamo parlato Fino a giovedì scorso Nella dorazione Del mese di giugno Questo gli ha detto Gesù Chiaramente A quei tempi Noi dobbiamo capire In una comunità religiosa C'è una regola Capito Quindi alle 11 e mezza Alle sore stavamo già avuto A dormire Non era come oggi Qui si va a letto A mezzanotte alle 2 Quindi prima Andranno a dormire Te ne vai un po' a un cappello E poi va a dormire No Lì alle 8 Alle 9 Stavano tutti a letto Comuniti di svegliarti La notte E comunque devi fare una cosa Che se qualcuno Se ne accorgeva Nelle comunità religiosi Tutto quello Che è singolare Si dice così Viene sempre visto Di non buon occhio Ed è giusto Che sia così Ordinariamente Dai superiori E quindi Per l'ora santa La fai Prima andranno a dormire Non a quell'ora De notte E è successo Il fin di mondo Dentro un monastero La nostra signora Ha mandato una serie Di cose Insomma Santa Margherita E' tornata E dice Guarda che tutte Ste cose Stanno succedendo Perché tu Sei opposta Allora santa Quindi fammi fare Sta cosa E vedrai Che va tutto bene Alla fine dice Va bene Proviamo E' andato tutto bene Quindi Ecco Questo per Per Perché impariamo Tutti quanti Questo vale Praticamente Perché Allora E' chiaro che Attenzione Il suddito Deve sempre obbedire Santa Veronica Ha obbedito Santa Margherita Ha obbedito Non ha detto No Nostro signore Ha detto Di fare No E cosa dice Gesù a Luisa Tu Ubbidisci Tu Ubbidisci Voglio che faccia Da parte tua Per quanto puoi Ad ubbidirli Il resto Lascialo a me Senza Turbati Questa è Il grande Attenzione Questo è Il grande Insegnamento Noi dobbiamo Obbedienza Anche quando Ci sembra Che una cosa Sia Opinabile Eventualmente D'accordo Ma fatto Santa Margherita Possiamo far presente Guarda che Eccellenza Eminenza Oppure Signor Parro Oppure Signor Padre Spiritale Oppure Signor Confessore Io sento Ci pensi bene Perché in coscienza Mi sembra Insomma No 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 Tu fai colà Va bene Come ti pare A meno che Certamente Non sia una cosa Che è Formalmente Un comando Di peccato No ma questa È una circostanza Insomma Ben Non è peccato In questo caso Attenzione Perché se no Finita subito Ubbidenza religiosa Mi sta comandando Il contrario Di quello che Mi ha detto Gesù D'accordo Perché che te l'ha detto Gesù Deve prima Cominciarsene a lui Deve farlo Di cernimento D'accordo Quindi Gesù vuole Che si ceda Poi Se quella cosa Gesù la vuole Comunque Il grande insegnamento Anche per noi Si lasci a lui L'incarico Di farla essere Questo è importantissimo Questo qui Tutti quanti capiscono Quanto è importante Sia a livello personale Sia a livello ecclesiale D'accordo Perché certamente Lo scontro frontale Con l'autorità La disobbedienza La ribellione La mancanza di umiltà Queste sono cose Che non si possono fare Mai e per nessun motivo Non ci stanno santi D'accordo Non ci sono santi L'unica cosa Che è stata da sempre Insegnata da tutti Maestri di spirito È se Il comando Come dire Viola la legge di Dio Oggettivamente Deve essere un comando Quindi un ordine Che viola la legge oggettiva Fuori di questi casi Se è opportuno O è necessario Io posso far presente Al superiore Guardi che Dopodiché Fiat voluntas tua Dopodiché Se il nostro Signore Vuole che sia fatto altro Io non posso andare contro La volontà di nostro Signore E assumere stili Demoniachi Demoniaci Non è pure Demoniachi Demoniaci Cioè Mi ribello Disubbedisco O faccio la guerra Ma stiamo scherzando Ma Gesù non ha mai fatto queste cose La Madonna non ha mai fatto queste cose I Santi non hanno mai fatto queste cose E non ci sono eccezioni Non c'è Perché Qui non possiamo fare Con questi discorsi Come hanno fatto Per fare entrare in Italia La legge dell'aborto La legge sul divorzio Cioè La tecnica Dei casi limite Questo quindi Ma se dovesse succedere Allora Vabbè L'aborto non si può fare Quindi bisogna obbedire Ma E se una suora viene stuprata Che questa Si deve pure tenere il bambino Cioè Il caso limite No Al divorzio No Ma se c'è un pazzo Che ammazza di botte La moglie Dalla mattina alla sera E metta il repentaglio Che non facciamo Capito Perché c'è sempre Un'altra soluzione Capito Però La tecnica del caso limite Anche per far passare Altre cose Cioè Io uso Una discriminazione Grossolana E vulgare D'accordo Per creare Il caso umano Onde poi Pensiamo Adesso Anche a tutte Le strumentalizzazioni Con tutte Con tutte le leggi Sul Sul fine Sappiamo Il caso limite Poi Edulcorato Pompato Dai media E la opinione pubblica Rimane sensibilizzata E allora cede Dice Non si può fare Però c'è l'eccezione Questa tecnica satanica Purtroppo Questa è una tecnica satanica Questa qui A mio modestissimo avviso Ne ha fatto entrare tante Nel mondo E purtroppo Qualcuno a volte Pure dentro La chiesa E non è ancora finito Il lavoro Insomma Di ingresso Quindi io starei Molto molto cauto E molto molto attento Noi abbiamo Altre Testimonianze Altri esempi Da Gesù Da Maria E dai Santi Non dobbiamo occuparci Che è una cosa che è buona Io glielo Io glielo posso far presente Dopodiché Come Gesù Ha ampiamente dimostrato Se una cosa Volessi metterla Ma lo fa morire Del padre del padre Adoriamo i nostri Adoriamo i suoi impescutabili Un istante Un istante Un istante che passa Fa il pazzo di meno Perché il tempo È sempre di meno Io penso che queste cose Siano molto importanti Per la nostra vita personale E ritengo anche Per una retta comprensione Di tanti orizzonti ecclesiali Santa Vergine Divina Maria Noi diciamo Sono precisamente Ripensando a A quel gran criterio Che ci ha dato Gesù Di pensare A quante umiliazioni Mortificazioni continue Contra le tre sofferenze State esposta alla tua vita Ci sarebbe da fare Una meditazione Che dura una settimana E neanche avremmo finito Insomma Soltanto a volerne Considerare alcune E come hai reagito Tu che eri la piena di grazia Trasformando in soli Tutte quante queste nubi E mai permettendo Che esse oscurassero minimamente Il sole divino Possiamo immaginare Possiamo pensare Ecco che tu Piena di luce Di grazia e com'eri Abbia fatto Umilmente Notare al tuo sposo Certe cose Che egli Indubbiamente Per la stima Che aveva di te Avrà certamente Tenuto in considerazione Forse anche In qualche circostanza Rettificando Le proprie idee O il proprio giudizio Ma che possiamo Sempre ricordare Lo stile Con cui tu Se hai fatto queste cose Io personalmente Sono convinto Di ci Ma lo stile Con cui Lo facevi Che era sempre Lo stile Umile Rispettoso E sottomesso Dell'autorità Che Dio Aveva posto Sopra La tua anima Certamente Era un'autorità Insomma Rispettosissima Ma tu L'hai vissuta E concepita Come tale Basta leggere Una mistica Città di Dio Di Maria da Greta Insomma Per rendersene conto Insomma E aiuta anche noi Nella nostra Vita personale Ed ecclesiale A fare altrettanto Nella divina volontaria Nel nome del Padre Del Filo e dello Spirito Santo Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti Da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque Nella divina volontaria Nel nome del Padre Del Filo e dello Spirito Santo Amo Fiat Ave Maria